Roberto Togliano, grazie. Benvenuto Roberto, vieni. Grazie. Allora, adesso ci andiamo a sedere. Questo racconto che ci hai regalato fa parte ovviamente, è scritto nel libro, noi due ci apparteniamo, è una delle tante storie che tu racconti, dei rapporti tra, possiamo andarci a sedere? Dei racconti tra, che spiegano come le dinamiche, prego qua, le dinamiche dell'amore poi incidono su quelle mafiose. Io ti voglio dire, noi che siamo cresciuti, la mia generazione è cresciuta col padrino, quindi noi abbiamo un'idea cinematografica delle donne del clan, come delle figure in qualche maniera o sottomesse o più o meno fintamente ignare dei meccanismi. La moglie di Marlon Brando non sa bene cosa faccia, fa finta di non sapere. Adesso è ancora così, o le donne anche dentro il clan hanno assunto un ruolo da protagonista? Dipende, ci sono dei casi in cui sono ai vertici. A parte che c'è un clan addirittura che per lungo tempo è stato di sole donne, il clan Mocce, con Anna Mazza al vertice, che è stata la prima donna a essere imprigionata per 41 bis, insomma nel carcere duro. Qualcosa è cambiato anche rispetto al simbolo che ha la donna nell'organizzazione criminale. In noi due ci apparteniamo, io racconto per esempio la storia di Maria Buttone che mi ha sconvolto. Lei scopre che il suo marito, Mimì Belforte, camorrista di Marcianise, ha un amante e ha una figlia con questa donna. Per lei significa innanzitutto disperdere il sangue, il sangue del marito, che poi è il suo perché hanno figli. E quindi decide di fare una richiesta al marito. Li vediamo nell'immagine. Dice, ammazza la tua amante e io adotterò la figlia che avete avuto. E Belforte farà così. Ucciderà Angela e la figlia, la loro figlia, andrà ad aggiungersi agli altri figli che aveva con Maria. È un ordine che dà lei e la figlia, che quindi cresce con la mandante dell'assassino di sua madre, non ha saputo nulla fin quando arriva un collaboratore di giustizia e racconta questa storia. Quindi lei, adulto, ormai lontano da quel territorio, sa che sua madre è stata ammazzata da suo padre. E l'ordine è stato della moglie per ristabilire le gerarchie. Roberto, ma qui siamo a tragedia greca proprio, il caso del Dio.